ciao ragazzi ciao ragazzi allora video sulle pagelle del gran premio che uscirà diciamo verso le 16 allora andiamoci subito subito voglio essere molto celere oggi anche perché ho molto da fare max verstappen voto 10 weekend semplicemente perfetto semplicemente perfetto anche il giro veloce e tutto il resto però sul giro veloce non gli ho messo la lode è proprio una questione del giro veloce avrei messo la lode se il giro veloce l'avesse fatto in gara e non con quella buffonata l'ultimo giro ok capisco che lui ha voglia di prendersi tutto tutte queste qua però amico mio un certo punto di vista dai non hai praticamente concorrenza c'è bisogno di fare quella manifestazione di arroganza c'è stato bisogno magari ieri un po esagerato con i toni su verstappen però gli avrei dato la lode se quel giro veloce l'avesse fatto in condizioni normali e non facendo quella pagliacciata quella pagliacciata dell'ultimo giro con la gomma rossa voi immaginate un solo secondo se avesse commesso un errore e avesse perso la gara che voto gli avrei dovuto dare a max verstappen forza che voto avrei dovuto dare a max verstappen ditemelo voi ci ho sperato e non lo nego ci ho sperato andasse fuori pista commettesse un errore facesse qualche cazzata il mondiale lo vince comunque per l'amor del cielo però se avesse fatto qualche cazzata io gli davo due in pagela due gli davo non l'ha fatta bravo ma non c'era bisogno di questa dimostrazione d'arroganza poi ho letto nei commenti oggi è più forte ma ragazzi accostarlo a senna dai non bestemmiamo non bestemmiamo su su via non bestemmiamo senna dai su dai su non evitate diciamo io senna lo ricordo io senna lo ricordo io senna lo ricordo benissimo e se proprio dobbiamo fare un accostamento con i piloti di adesso airton senna equivale a verstappen emilton leclerc messi insieme e forse neanche ce la fanno chiaro dai non bestemmiamo su senna dai non esageriamo ribadisco airton senna era verstappen leclerc ed emilton messi insieme e forse neanche ci arrivano ok ok leclerc 7 meno secondo posto che maschera chiaramente un weekend non positivo le ha prese tranne che nel q3 le ha prese in lungo e largo dal compagno di squadra ma non solo è apparso costantemente in difficoltà su una pista dove lui è andato sempre molto bene sempre molto bene fin angolo 2020 riuscì a far secondo riuscì a far secondo fin angolo 2020 su questa pista è una pista che lui ama ma ma è secondo solo grazie a un ordine di scuderia ragazzi è secondo solo grazie a un scuderia che io non capisco non avendo nessuna delle due vetture in lotta per il mondiale a parte che per il mondiale non c'è lotta manco perez figuriamoci quindi dateci lebbrezza se poi dai box non hanno voluto distruggere il ragazzo psicologicamente che qualche periodo che è un altro paio di mani che lo capirei anche ok 7 meno perez 7 e mezzo 7 e mezzo per la sprint race per l'ottima gara che ha fatto l'ottima rimonta che ha fatto 7 e mezzo che però non cancella la qualifica negativa arrivata anche per colpe non sue stavolta anche per colpe non sue sicuramente colpa di un regolamento che veramente fa pugni con la logica e l'ho spiegato ieri in un video lando norris 7 e mezzo tendente all'ottomino oggi ha fatto ha fatto un weekend veramente molto buono molto buono l'ho visto molto meglio io spesso ho tacciato norris di poca aggressività nonostante avesse del talento di poca aggressività ma in questo weekend mi è molto piaciuto naturalmente ha beneficiato degli aggiornamenti mclaren che arriveranno anche per piastri alla prossima gara ecco vabbè poi ne parlo dopo di mclaren ferrari e tutto il resto vabbè fernando alonso voto 6 quinto solo grazie alle penalità quinto solo grazie alle penalità di sainz tutto il resto vabbè fatto un weekend al di sotto ma un po elaston martin che un po sta un po segnando il passo qualche gara da questa parte carlo sainz otto meno il meno le do a malincuore purtroppo da regolamento becca ste penalizzazioni ma la gara che ha fatto sainz e da otto e mezzo e da otto e mezzo 8 e mezzo è il voto 8 meno il voto ufficiale 8 e mezzo il voto che io gli do col cuore che sainz ha fatto un weekend strepitoso strepitoso danneggiato dal muretto ferrari inutile negarcelo russell 6 e mezzo in una mercedes in difficoltà sprazzi di di buona gara sprazzi di personalità soprattutto nella sprint race quando fa quel pit stop dove riesce a guadagnare dei punti un punto non ricordo luis emilton voto 6 sufficienza giusto perché è arrivato a punti ma luis emilton è chiaro che ha imboccato il diale del tramonto della sua carriera e prima o poi tocca a tutti prima o poi tocca a tutti io pensiero un pensierino a ritiro nei panni di lui ce lo farei anche e anche penso che anche la mercedes stia valutando queste robe qua perché amico mio non non puoi chiedere a emilton di svilupparti un'altra macchina vincente a un 38enne ok stroll voto 6 giusto perché riesce arrivare a punti ma un 6 di consolazione il resto forse questa è la sua peggiore annata paradossalmente quando ha una macchina un po più competitiva questa è la sua peggiore annata ma li do 6 giusto per 6 anche a gasli che arriva a punti ma più che altro per il valse delle penalizzazioni albon 6 e mezzo altra gara superlativa tra gara oltre la sufficienza e si dice qualche team di medio al di fascia medio alta stia pensando a lui lo meriterebbe anche questo ragazzo che non mi era dispiaciuto neanche in red bull e poi il red bull è praticamente una monarchia la red bull è praticamente una monarchia in pista quindi vabbè però gli do un 6 e mezzo a halbol che merita ma più che lui io auguro alla williams che mi si dice possa usufruire di nuovi capitali auguro alla williams di tornare a buoni livelli perché abbiamo bisogno di queste scuderie storiche e come in un mondiale di calcio un mondiale di calcio ha bisogno dell'italia del brasile della germania dell'argentina inutile negarlo hanno sempre il loro fascino poi partiamo un po con i voti di di massa diciamo do un 5 a sargent a bottas a piastri 5 meno a piastri e devris onestamente oddio 5 meno a piastri e devris dai quali mi aspetto molto di più è vero piastri non aveva gli aggiornamenti che aveva Norris benissimo però da un campione di categoria qualcosa di più te la devi aspettare o no 5 e mezzo a Magnussen 5 anche a Zunoda che quest'anno veramente sembra essersi spento almeno ci faceva divertire con le sue parolacce qua manco quella abbiamo più 5 e mezzo a Magnussen ce n'è 6 più a Hulkenberg che aveva fatto un buon sabato però poi gli si è rotta la macchia gli do un 6 più che ha meritato una AS ha più volti con molti volti un mezzo disastro in gara mentre in qualifica ha fatto vedere buone cose in qualifica anche in parte nella sprint ha fatto vedere buone cose passiamo ad altri voti che vanno oltre i piloti Ferrari Ferrari voto 5 voto 5 allora per la decisione di non far andare avanti science per me è sbagliata per me è sbagliata io potevo capirlo se Leclerc fosse stato in lotta per il mondiale l'avrei anche potuto capire è normalissimo sarebbe stata una cosa normalissima ma in un mondiale praticamente già chiuso a maggio perché questo mondiale è già finito questo mondiale è già finito a maggio cioè dare ordini di scuderia in questo modo vuol dire solo una cosa preservare un pilota a discapito dell'altro e così non va bene così perdi un pilota perdi un pilota e science doveva passare punto non ci sono cazzi poi dovevo dare i voti a un'altra scuderia Aston Martin 5 e mezzo come ho detto sta segnando il passo da qualche gara Mercedes idem 5 e mezzo perché fatica io credevo meglio rispetto alla scorsa stagione Mercedes invece fa una fatica tremenda a dare una macchina competitiva ai suoi piloti mi meraviglio dei tedeschi forse ci sarà qualche cambiamento all'orizzonte a livello di dirigenza si vocifera Toto Wolf possa essere sollevato dall'incarico non lo so non lo so e poi federazione e regolamento per una questione track limits io che secondo voi che voto devo dargli eh ci do solo il voto i motivi li ho spiegati ieri ci do un bel tre perché solo chi non ha mai corso non dico in Formula 1 ma neanche alla Playstation solo chi non ha mai corso non ha mai guidato una macchina da corsa può concepire una regola così cretina e da quando esistono i cordoli che si sfruttano tutti se tu mi metti il track limits all'interno del cordolo fai una cagata in vera e conda quindi nient'altro da dire signori iscrivetevi al canale stasera torniamo a parlare di calcio ho dei video commemorativi da fare devo contuare devo fare l'ultima puntata su Platini e vorrei dedicare un video a Vincenzo D'Amico iscrivetevi al canale